Sono fiducioso che oggi si chiuda un buon accordo, anche migliore di quello dell'altra volta. Oggi noi potremmo andare a 40.000 migranti che escono dall'Italia e secondo un meccanismo diverso dalla volta precedente, cioè la volta precedente era ciascun paese a dire quanti era disponibili a prendersene. Stavolta invece avviene la scelta in modo collegiale, non è un paese che dice io me ne prendo 1.500 o 300, ma in modo collegiale si stabilisce a ciascun paese quanti ne spettano. Penso che anche alcune resistenze dei paesi dell'est dovrebbero ammorbidirsi. Il lavoro preparatorio è andato bene, però partecipiamo al Consiglio, diamo il nostro contributo e poi il giudizio lo diamo alla fine.